La guerra non è lontana, non dalle coscienze, non per chi si batte in prima linea per la solidarietà e nemmeno per chi pensa addirittura di armarsi e andare a combattere in Ucraina. Un vicentino sarebbe stato individuato dalla Digos e dalla polizia postale. Da accertamenti sui social e sulle chat di messaggistica, pare che l'uomo che vive nel Bassanese e che lavorerebbe per un istituto di vigilanza privato, avrebbe manifestato l'intenzione di entrare nelle fila della legione straniera di difesa creata dal ministero di Kiev. Per questo la questura di Vicenza gli avrebbe sequestrato armi e munizioni detenute regolarmente. Nel corso delle indagini, sulle quali vige il massimo riservo, sarebbe stato individuato anche un ucraino che da anni vive nel vicentino. Nel suo caso, però, non sarebbe scattato nessun provvedimento amministrativo perché lo straniero avrebbe già lasciato l'Italia per tornare in Ucraina. Le indagini starebbero proseguendo per individuare eventuali foreign fighters.